Siete veramente in tantissime persone che vi state chiedendo un approfondimento su CryptoUnity. Infatti, in questo video ho deciso di racchiudere il mio pensiero ed una recensione, ovviamente il più limpida possibile, per quanto riguarda l'exchange di CryptoUnity. O meglio, questo è quello che dichiara il pubblico di essere, ovvero un exchange centralizzato con diverse fitos che si collegano al mondo della DeFi. Hi guys, qui è Ryan, il vostro crypto analista di fiducia. E in questo video voglio subito andare a fare una recensione di CryptoUnity. Questo perché ho ricevuto diversi messaggi che vogliono andare ad approfondire questo progetto, dato che c'è in corso il lancio del token CAT, che è il token dell'exchange centralizzato di CryptoUnity, un po' come è CRO per Crypto.com. Infatti, guys, in questo video voglio andare a fare una panoramica e soprattutto andare a definire se potrebbe aver senso o meno andare a studiare nel dettaglio CryptoUnity. Prima, guys, vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanellina, perché soprattutto per quanto riguarda le video news è di fondamentale importanza rimanere sempre on time. Cominciamo con la visuale sul sito ufficiale di CryptoUnity. Vediamo come attualmente sponsorizzano il fatto che stanno lanciando il token CAT. Infatti, nel momento in cui sto registrando questo video, il lancio scadrà tra 29 giorni, 1 ora e 50 minuti, ok? Infatti, abbiamo più di un mese per andare ad una persona che, ovviamente, ideologicamente vuole investire in questo token. Può investirlo entro questo lasso di tempo. Ovviamente, come sempre, sapete che io personalmente non investo in ICO, pre-sale o lanci di nessun genere, perché abbiamo tantissime complicazioni che possono generarsi ancora prima che il token vada a essere listato sui maggiori exchange e, di conseguenza, vada a essere quotato sul mercato. Infatti, guys, rimango sempre di questa opinione anche per quanto riguarda questa tipologia di exchange. Andiamo a vedere, però, di cosa si tratta prima di andare ad approfondire la fase di pre-sale o comunque sia del lancio. Che cos'è CryptoUnity? CryptoUnity è una piattaforma criptografica focalizzata sui principianti. Infatti, dichiarano di essere un exchange che, un po' come Crypto.com, vuole andare a proporre i propri servizi alle persone non esperte. Di conseguenza, potete ben capire come il trading sui futures non sia disponibile per quanto riguarda questo exchange. Infatti, dichiarano che hanno un sistema, un ecosistema sicuro per gli utenti utilizzatori di CryptoUnity. Qui possiamo leggere il white paper e comprare il token ufficiale. Se scorriamo verso il basso, abbiamo delle recensioni fatte worldwide, però, in realtà, non c'è un link diretto per andare a vedere. Comunque sia, vi consiglio di andare a approfondirlo, dato che si trova anche su Trustpilot. Comunque, andiamo a vedere quali sono le caratteristiche principali, le features principali. A una sezione di educazione, dove le persone, soprattutto che si interfacciano in prima battuta al mondo delle criptovalute, possono andare a capire i vari termini. Cos'è una DeFi, cos'è un exchange, cos'è appunto un token, eccetera, eccetera. Scambio mobile. Tecnicamente, offriranno e offrono agli utenti utilizzatori un'applicazione per gestire il proprio conto di CryptoUnity. Personalmente, come vi ho già detto, non lo utilizzo e non ho intenzione né di acquistare il token CAT, né di utilizzarlo. Comunque, dato che me l'avete chiesto in molti, sono qui per farvi una panoramica e risparmiarvi ore e ore di approfondimento in autonomia. Ovviamente, come exchange, detengono una sezione del portafoglio, dove è possibile andare a gestire le proprie operazioni, come per esempio comprare criptovalute, venderle, ricevere da un portafoglio esterno e invece inviarle. Infatti, qui, come potete vedere, c'è tutta la grafica e l'overview del portafoglio. Ha un servizio clienti, come è normale che sia, che è anche qui in basso alla chat, dove potete andare a scrivere, eccetera, eccetera. C'è una sezione su Launchpad, dove in futuro CryptoUnity, attraverso questa sezione, andrà a sponsorizzare e un po' come vediamo su altri exchange, come per esempio Bybit, Bitget o anche lo stesso Binance, offrono pubblicità e lancio per nuovi progetti. Ovviamente c'è la possibilità di depositare dall'esterno, ma una cosa che in molti mi state chiedendo è che potrebbe essere il primo checks, almeno come dichiarano i fondatori stessi, ad essere decentralizzato. Infatti, dichiarano che i fondi sono detenuti da un ente esterno e di conseguenza non hanno la possibilità di andare a rubare i fondi. Ripeto, questa è una dichiarazione che andrebbe approfondito. Qui mettono a confronto CryptoUnity contro la concorrenza. Infatti, fanno vedere quale features ha CryptoUnity rispetto a Bitpanda, Coinbase, Crypto.com, Bitstamp e Binance. Infatti, fanno vedere che, per esempio, sono gli unici di questa lista alla benuca funzionalità di portafoglio freddo integrata. Ciò vuol dire, come vi dicevo anche prima, che ritengono i fondi degli utenti attraverso un portafoglio decentralizzato non gestito direttamente da CryptoUnity. E questo potrebbe essere un vantaggio se, ovviamente, fosse bellitero così. Come quasi tutti gli exchanger, a differenza però di Coinbase, lì tutto ruota intorno a CUT. Diciamo che per gli order di CUT, che è il token ufficiale di CryptoUnity, che sarà lanciato e dopo andremo a vedere alcune features, un po' come ho detto prima, il CRO per Crypto.com, vediamo che è un token di utilità badato su BNB, ovvero la Binance Smart Chain. Dichiarano di avere un certificato sicuro e trasparente. Dopo questo che lo smart contact è stato sottoposto a controlli da parte di Certic e Quill Audits, vi consiglio di andare ad approfondire. Infatti qui fanno vedere vari marker, come per esempio Certic KYC Gold, Certic Top 10% e altri bollini. Vi consiglio comunque di andare a vedere nel dettaglio. Qui troviamo tutte le utilità del token cut, dove offrono delle tariffe inferiori agli odler. Infatti per chi detiene il token cut ha degli sconti sulle trading fees, dei bonus sul portafoglio freddo, accesso a workshop e sconti, accesso prioritario all'assistenza clienti, staking, infatti danno la possibilità di mettere in stake attraverso un earn program per andare a guadagnare in passivo un certo tipo quantitativo di APR e altri premi esclusivi. Qui troviamo la roadmap. Ragazzi, vi consiglio di andare ad approfondire in autonomia. Qui c'è una sezione interessante dove fanno vedere tutti i sostenitori. In realtà andrebbe anche qui approfondito, dato che per esempio abbiamo CoinMarketCap, BNB Chain, PancakeSwap, Blockchain Expo Global e tante altre aziende o comunque sia eventi che fanno parte del mondo delle criptovalute a livello globale. Però, ripeto, vanno sempre viste con le pinze queste informazioni. Infatti vi invito ad approfondire una volta che avete finito di guardare questo video. Ma torniamo con il parlare della sezione cut. Infatti, se clicchiamo su guadagna cut, dichiarano che c'è la possibilità di guadagnare cut e altri premi fantastici, soprattutto per chi detiene cut. Diciamo che questa è una cosa destinata agli odler. Viene utilizzato il token cut per la sezione del launchpad. Infatti bisogna detenere per far funzionare i token cut la sezione del launchpad. Se clicchiamo su stake possiamo andare ad guadagnare un APR che non è ben espresso, almeno per quanto riguarda le persone che non hanno questa tipologia di token. Comunque sia per chi vuole deve accettare i termini e le condizioni che vi invito sempre a leggere. So che in realtà molti di voi non le leggeranno mai. Clicchiamo su Connect Wallet e possiamo collegare tre portafogli decentralizzati, ovvero Metamask, Trust Wallet e Wallet Connect. Ma andiamo a vedere come funziona l'acquisto del token. Infatti vediamo come è possibile acquistarlo tramite addirittura bonifico bancario, PayPal, credit card o, logicamente come possiamo immaginare, attraverso le criptovalute con BNB, ETH e USDT. Infatti cliccando su BuyCut dovete rilasciare tutte le informazioni, il BAP20 Wallet Address e cliccare su Next fino a quando non ci viene il payment method e ovviamente anche il checkout. È possibile acquistarlo anche su PancakeSwap, infatti basta cliccare su BuyOnPancakeSwap e ci esce in pratica il sito ufficiale di PancakeSwap Finance. Infatti basta cliccare su BuyOnPancakeSwap e saremo ridirezionati sul sito ufficiale di PancakeSwap. Se clicchiamo infine su About Us vediamo chi c'è dietro questa tipologia di progetto, stiamo parlando di un progetto dell'Est Europa. Fanno vedere come hanno ricevuto il KYC Gold, per chi non sapesse che cos'è il KYC Gold stiamo parlando di un elevato standard di trasparenza perché è concesso da Certi che è un ente certificatore, ha fatto il KYC a tutto il team. Infatti qui potete trovare tutti gli eventi al quale hanno partecipato e soprattutto qui potete trovare i CEO, co-founder, le persone del reparto marketing, head of PR eccetera eccetera. Comunque sia se siete interessati ad approfondire basta andare a cliccare su LinkedIn in modo che potete trovare magari anche interagire con i founder o i componenti del team di CryptoUnity. Guys, siamo arrivati alla fine di questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like. Personalmente, come vi ho detto anche nel corso di questo video, non ho intenzione di andare ad acquistare e partecipare a questo round investimento per l'acquisto del token CAT. Questo per le diverse ragioni che vi ho già citato all'interno e nel corso di questo video. Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se conoscevate in realtà questo exchange. Van Ryan è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Bye.